Scusa, cosa sono? Sono undici e mezza. A mezzogiorno vattelo a pianta il culo! Oh, dove vai? Ma come dove vai? Ma chi è solo ora? Gli ho detto, sono le undici e mezza. Ma ha detto a mezzogiorno vattelo a pianta il culo. E allora che te corri? Manca ancora mezz'ora. Ma dove manca ancora mezza?